Dei ragazzo, io sono un ragazzo vissuto in campagna, in esperienza ormai di tutto, che per noi, quello che è la nostra esperienza, noi davamo reti al babbo e la mamma più che altro, la mamma e il babbo erano anche loro gente di campagna, tante esperienze non ce l'hanno potuti scegliare, non erano neanche all'altezza. E così sono arrivato fino quasi all'avanzata età di quasi 20 anni, devo dire, di quello che diceva babbo e mamma, qualche cosina cominciava a ragionare anche magari con la mia testa. A 18 anni ho conosciuto una ragazzina, abitava nella casa di là, questa qui vicino a me. Lei l'ho conosciuta da bimba e poi è cresciuta, è cresciuta e siamo arrivate che lei aveva 15 anni e io ne avevo un po' più di 18. Abbiamo cominciato a sorruttarci, farci dei sorrisi. E poi una volta cominciai a filarci indietro, a girare avanti e indietro. Lei quando andava via io stavo attento, poi mi piaceva la sua compagnia e forse a lei ci piaceva la mia perché un giorno poi dopo ci siamo sposati. Però mi costò qualche cosa quando gli chiese di fare l'amore che mi disse sì. Lei era andata a fare la spesa, che a loro poi c'era miseria, era andata a comprare un bottiglietto di olio così, dieci soldi costava e che dovevano cenare la sera da condire un po' l'insalata, capito? Allora io lo vedi che andava via, andava al paese a prendere quest'olio, non sapevo. Ora ci andai dietro. Quando venne a casa, in bicicletta eravamo, da lì da capotto arrivare qui. Un bel momento ci chiese se voleva diventare la mia fidanzata e lei mi disse sì, capisci? E allora sa cosa è successo? L'olio che aveva nel sport, capisci? E io l'abbracciai subito, lo volevo baciare, non so se fosse l'olio, si rubasse l'olio. E adesso, perché a loro dei soldi, non c'era, prendevano dieci soldi, dieci soldi di olio, era un bottiglino lungo così, chissà, poi si adoperavano tutti in una volta o tanto. E adesso cosa fai? Allora io avevo qualche soldino, ci diedi i soldi, ma quell'olio lì mi rovinò tutto, perché quello che volevo far rire, andavo, e adesso mio babbo cosa ci dice qua e là? Perché aspettavano l'olio per mangiare quello fu il fatto a 18 anni.